Mi rivolgo alla juventinità vera, non quella fasulla. Evitate di andare allo stadio e a spendere soldi. Vi annoiate portando coperta e cuscino vedendo questo schifo di partite. Con un buco di 254 milioni di euro, giocatori dimezzati di ingaggio grazie a questo presidente presuntuoso e arrogante che ha rivoluto Allegri, distruggendo definitivamente il DNA juventino. Questo allenatore è ritornato soltanto per rubare soldi, non capendo nulla di calcio, né di gioco né di altro. Facendo esperimenti inutili, distruggendo giocatori buoni, volendo giocatori che la società li ha comprati. Cacciando via giocatori buoni venduti in altre squadre diventando fenomeni. In un anno e mezzo la Juventus ha fatto un buco di 1 miliardo e 500 milioni. In tre anni 600 milioni di debito con aumenti di capitali di 700 milioni ogni volta. Non vincendo nulla. Anzi, andremo nell'astrico totalmente. Quest'anno è andato in negativo, uscendo quasi dalla Champions, forse andremo in Europa League. Il campionato siamo a 7 punti dalla prima, ma se continuiamo in questo passo non ci qualificheremo neanche per il quarto posto. Ci rimane la Coppa Italia, se la vinciamo, se no nulla, accumulando altri debiti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!